Bella ragazzi, io sono Martex, bentornati sul nuovissimo video mattutino Una nuova collab è alle porte, stiamo parlando proprio di Fortnite per NBA Scopriamo tutto quello che c'è da sapere dalle skin ai premi gratuiti In molti lo avranno già visto ma è d'obbligo partire con il videozzo di presentazione Quindi il mega trailer di tutto ciò, andiamo raga Axo Ragazzi ma quanto è bello vedere sabbie in questa maniera Cioè torniamo un attimo indietro, guardate qua Ma seriamente che bella rivisitazione poi tutti quanti sul locale di Sofedez Sofedez Io mi trovo già sull'articolo ufficiale postato da Epic e quelle sulla destra Sono le skin che verranno presentate nello shop giornaliero il giorno 22 maggio A refresh dello shop, quindi ore 2 italiane Lo trovate anche scritto qui ragazzi, debutto dei costumi NBA A partire dalle 2 del 22 maggio 2021 i giocatori potranno indossare la divisa e rappresentare una delle 30 squadre della Lega Il set a tutta pittura contiene 31 divise, incluse quelle delle 30 squadre NBA Ma c'è dell'altro perché ragazzi vi è anche un mini bundle Emote e backpack a quanto pare Questo dovrebbe chiamarsi lancia e segna Infatti potrai ottenere l'emote tiro a gancio e il dorso decorativo mini canestro Che potrà includere il logo delle 30 squadre NBA E quando gli altri giocatori equipaggiano il dorso decorativo mini canestro Potrai dichiarare il tuo tiro Quindi ragazzi interagire con i backpack degli altri player Proprio come funziona con i pet Quasi Ma c'è dell'altro, verranno presentati anche degli armadietti ufficiali Scelti direttamente da alcuni giocatori dell'NBA Ed eccovele qui, guardate un po' che cosa hanno scelto per voi Vabbè, vabbè Ma continuiamo, scendiamo Andiamo nella sezione battaglie a squadre Fortnite per NBA Qui ragazzi, premi per tutti Dal 19 al 23 maggio Visita la pagina ufficiale delle battaglie a squadre Ragazzi ve lo lascio qui sotto in descrizione Così non potete missarlo Registrati e sostieni la tua squadra NBA preferita Avrai la possibilità di ottenere ricompense di gioco Heavy Back Il link appena cliccato vi porterà in questa paginozza Di nozza ufficiale di Epic Non preoccupatevi La prima cosa che dovete fare è cliccare su accesso E quindi loggare con i vostri dati di Epic Games È ovvio Io ancora non ho fatto nulla Quindi sicuramente troverò tutte le squadre piene raga È davvero tardissimo Eccolo qui Il tuo account deve essere autorizzato per iniziare Cedo il tuo account Epic Games In modo da poter tenere tracce delle tue azioni di gioca E calcolare i tuoi punti nelle battaglie a squadre Sì perché ragazzi Tiene conto di quanto giochiamo anche in game Così da aiutare giorno per giorno La squadra che abbiamo scelto Vedete qui ragazzi Login effettuato come Martex E adesso dobbiamo scegliere la squadra Chi scegliamo E soprattutto qua sotto tra i commenti Fatemi sapere invece chi avete scelto voi ragazzi Chi sceglierete Credevo di essere un po' in ritardo Però No Caspita Sono in ritardo Caspiterina Sono in ritardo Miami Chicago Bulls Tutte piene I Lakers Ovviamente 15.000 membri Su 15.000 Sì ci siamo Addirittura alcuni Anziché scegliere una squadra Si sono messi come tifosi Clicchiamo su classifica La sessione è attualmente chiusa Questa classifica si aprirà il 22 maggio Vediamo un po' come funziona però ragazzi Perché ci sono 4 step molto facili da seguire Il primo è quello di aderire Quindi joinare in una squadra ragazzi Dovete entrare per forza in una squadra E noi entriamo Però non so chi scegliere Io direi di andare proprio così Base Vado con sacramento ragazzi Andiamo Sì 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 Go 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 Andiamo Vediamo un pochettino qui i premi Perché abbiamo delle belle ricompense Primo posto ragazzi Bellissimo sto backpack Spero che Diverrà raro Ogni membro della squadra del primo posto Riceverà 500 V-Bucks E il trofeo del campionato NBA Back Bling Quindi 500 V-Bucks Per tutti coloro Che si classificheranno Al primo posto Per tutti ragazzi Tutti 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 Quelli che sono all'interno della squadra Secondo posto Invece abbiamo 300 V-Bucks Come premio E terzo posto Invece 100 V-Bucks Va bene Al 19 al 21 maggio Qui dice che sono disponibili Solo compiti di sfida Dal 22 maggio Al 23 maggio Invece Compiti della sfida Più compiti Ripetibili Quindi si possiamo accumulare Ancora di più Ed aiutare la nostra squadra Ci sta Se clicco su statistiche Della squadra Ovviamente non mi farà vedere nulla Però abbiamo delle ricompense In gioco Ok Uno spray Qui possiamo completare Tre attività sfide Per ottenere Lo spray In questione Il banner ozzo Invece Completando Cinque Incarichi Giornalieri Nel momento in cui Cliccate sulla vostra squadra Vi da anche delle info Che figata ragazzi Fondazione 1985 Conferenza Western Divisione Pacifico Ok Ma quindi per il momento Non possiamo vedere neppure le sfide E invece E invece Completa gli incarichi Della sfida Per guadagnare punti Per la squadra Attività numero uno Gioca 24 minuti In qualsiasi modalità normale Solo Duo Trio Squad Per ottenere Mille punti Vediamo Compito due Questo qui ancora Ovviamente è bloccato Fino al 20 Andando così ragazzi Successivamente abbiamo L'attività tre Del 21 22 Ok va bene Braga Tutto quanto fino al 23 Detto ciò Buona fortuna a tutti quanti E GL per il primo team Che si beccherà 500 V-Bucks E questo backpack Non sono sicuro ragazzi Non ne ho proprio idea Se uscirà Nello shop giornaliero Perché raga Se si dovesse Ottenere solamente Con il primo posto Sarà qualcosa Da sfoggiare A tutti i vostri amici Garantito Però non ne ho idea ragazzi Alla fine potrebbe essere Anche qualcosa Che vedremo nello shop E quindi Ripperotti Altra cosa molto importante Che voglio dire Dato che ad inizio video Ho fatto vedere I membri E di fan Ragazzi guardate qui Parteciperanno Un totale di Un milione di utenti 450.000 membri Che generano le squad 550.000 fan I fan possono guadagnare Punti per la squadra E sbloccare lo spray E lo standardo Fortnite Completando le attività Di sfida I fan della squadra Vincitrice Vinceranno il back bling Del trofeo Del campionato NBA Nota I fan non possono vincere I V-Bucks Quindi ragazzi Significa che se voi Scegliete una squadra E questa squadra Arriva prima In tutta la classifica Voi non riceverete I V-Bucks Da membro Ma riceverete Il backpack Come premio Molto semplici Come procedimento Da seguire Poi l'abbiamo visto Tante di quelle volte Nelle team battles Precedenti Oramai ragazzi Basta Loggare E scegliere la propria squadra E via Accumulare i punti Completando queste sfide Quotidiane Nient'altro Niente 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 Difficile Come già detto Link in descrizione Per registrarvi E scegliere la vostra squadra In realtà Non vi è registrazione Vi è solamente un login Basta avere un account Epic Games Io spero che vi sia stato d'aiuto Mi raccomando Lasciate un bell'ecos Al video Ringrazio tutti Coloro che mi stanno Sostenendo Con il codice creatore Martex Nello shop Giornaliero E da proposito di shop Raga Andiamo a cliccare Su questo negozio Oggetti Togliamo questo punto Esclamativo Let's go Eccolo qui Ehm Ok 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 Non volevo vedere questo Andiamo su Andiamo su E' tornato il pesce secco Atlantideo Pesce balestra Stella marina Ed Axo non c'è Scusa What Sono tornati tutti i pesci Operazione segreta Besh Ricchezze perdute Novità Vediamo questa frappozza 300 V-Bucks Uh Carini disegni Carini Peccato che non sia movimentata Peccato 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 Le imotto non me le perdo mai Raga Mai 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 Quanto è bello Gioanesi Guardatelo lì Mamma mia Bellissimo Fosca fiabba Tornata Non so da quanto Non usc'è questa schinnozza Ma poi ho visto un doggo così Lì Messo a caso Ma perché Povero doggo Perché Potassimo Maximus Raga Delle schinne un po' ambigue Quest'oggi eh Lo shop è ambiguo E parecchio ambiguo E lei invece da quanto non usciva La nostra operazione segreta Ricordate il secondo stile Che venne aggiunto In che stagione Chi se lo ricorda Pesce rigorosamente Senza stile Del cubo Quarto stile Selezionabile Nascosto Non capirò mai Questa cosa Pesce secco Come già detto La nostra principessa Tutti 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 Pesce secco Oggi Il video si fa A concludere qui Con questo shop Super short E nient'altro Un salutone da Martex E come al solito Un bel Ciao 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 Ciao